Si sono concluse le amministrative, era un turno che per quanto riguarda la provincia di Arezzo comprendeva due comuni, tra l'altro piuttosto piccoli, Monte Sanzavino, come popolazione ovviamente, e Monte Mignaio. La sorpresa è stata proprio Monte Sanzavino, c'è stato un ribaltone, come si dice in questi casi, è passato al centro-destra. Sì, certamente è passato al centro-destra, però la storia non si può vedere solo alla fine. È un risultato che secondo me è maturato da un po' una crisi che su quel comune si è evidenziata ormai da due o tre elezioni precedenti. Sia le elezioni regionali che quelle europee, il centro-destra viaggiava con numeri che erano superiori, qualcuno addirittura vicino al 60%. Quindi era chiaro che c'era una condizione in quella realtà in cui c'era evidentemente un elettorato che si era spostato. Il secondo elemento che secondo me si era evidenziato è che già anche l'altra volta in pratica c'erano due liste di centro-destra e la Scarpellini ha vinto per 100 voti perché in quel caso i socialisti di Mosentavino la appoggiavano. Questa volta invece è nata una situazione particolare. In che senso? Mosentavino non è mai stato un comune che ha avuto una presenza del PD così come può essere a Civitella, sopra il 50%. Perché è un comune che ha avuto sempre una storia in cui c'era anche un'area o democristiani nella prima repubblica, socialisti e così via. Quindi secondo me c'erano le condizioni per cui un mondo di persone dell'area liberal-democratica riformista che erano gente un po' più moderata e che si allontanavano le due estreme, da una parte il centro-destra e dall'altra parte il PD con tutta l'area della sinistra potesse far emergere una lista e quindi io insieme ad altri abbiamo cercato di impostare una lista civica non una lista di partiti perché quando si fa le elezioni amministrative ormai conta solo costruire una lista civica fatta di persone però che erano tutte su 12 candidati, escluso il sindaco e due altri candidati erano tutte persone nuove venute dalla società civile di cui anche 4-5 ragazzi giovani e quindi abbiamo sostenuto questo tipo di percorso e possiamo tenerci soddisfatti ma perdere al photo finish è un po' dura perché noi abbiamo perso, chiaramente ha vinto il candidato del centro-destra però il candidato del centro-destra ha fatto 12 voti in meno mentre il nostro candidato non ha avuto 60 meno rispetto al candidato quindi siamo tutti al photo finish cosa insegna però questo tipo di esperienza? che bisogna che io dico il PD in quanto che è l'interlocutore con cui sia io di Italia Viva ma anche credo i socialisti abbiamo cercato di parlare per dire era in quel comune il momento di cambiare ci voleva un cambiamento e quando te presenti comunque persone, persona degnissima l'ingegnale Marzullo niente da dire ma era uno che chiaramente aveva fatto troppo presenza in questi 30 anni in cui il PD ha sempre governato quel comune e quindi la reazione degli scontenti gli ha fatto perdere però credo che questo possa servire da lezione perché in questa provincia come minimo ci sono altri 15-20 comuni che hanno le condizioni di Monti San Zavino e quindi se lavoreremo per tempo e cercheremo di trovare delle persone che vengono dalla società civile che hanno voglia e con spirito di servizio di mettersi a servire la propria comunità con un'esperienza penso che questa sia un'ulteriore lezione che non guasta per migliorarci nel prossimo futuro lo stesso